Non deve venire in questo momento, io aspetto qui, io aspetto anche fino alle 6 di mattina. Andiamo noi, scusa. La squadra mobile è qui, però io non vedo né il questore né il prefetto. Andiamo noi sopra, scusa, andiamo noi. La squadra mobile, gli operatori, no, lo Stato lo rappresenta lì, il governo lo rappresenta lì, il prefetto. Il governo lo rappresenta lì, il governo è assente in questo momento, in questa città. Sono bombe, ogni 14 ore c'è una bomba in questa città e non è sostenibile. Io, come rappresentante dell'assiste del Consiglio Comunale, la sto aspettando, a lì o a quest'ora. Non può parlarmi addosso, io non le consento di parlarmi addosso. Lì rappresenta il governo. No, lì rappresenta il governo. Lì rappresenta il governo, lì rappresenta il governo, lì rappresenta il governo e il governo deve essere presente. Non ci sono problemi. Lì parlo addosso a me, io parlo addosso a lì. Lì parlo addosso a me, io parlo addosso a lì. Sii presenti, non attraverso gli operatori di polizia. Voglio i rappresentanti istituzionali a rappresentare la legalità in questa città. No, è un problema che lì rappresenta il governo, qui. Lì il rappresentante del ministro della giustizia Alfano, qui. Il ministro degli interni, scusi, il ministro degli interni, se c'è batto un colpo, qui. Il ministro degli interni Alfano, il ministro degli interni Alfano, se c'è batto un colpo. Abbiamo forze di polizia senza benzina che ogni giorno scrivono un articolo sul giornale. Se lo Stato è presente, si faccia presente. Ha chiuso. Va bene.